C'è tutta la parte dell'attività che regge gran parte dell'economia del nostro territorio da tantissimi anni, quindi mi riferisco al manifatturiero, mi riferisco all'arredo mobile, mi riferisco alla metallmeccanica, alla moda, tutte attività che ovviamente negli ultimi anni hanno dato dati positivi solo perché erano stati capaci nel tempo di internazionalizzare la propria attività economica. Quindi molti contratti con l'estero, molte opportunità in altri paesi che in questo momento di difficoltà tutte le fiere internazionali da qui alla metà del prossimo anno, le più importanti sono state completamente cancellate in presenza, qualcosa si farà con fiere online, non c'è la possibilità di viaggiare, consideriamo che se prima viaggiavano quattro aerei adesso ne viaggia uno su quattro rispetto a prima e non si può viaggiare così tranquillamente per lavoro perché ci sono situazioni di quarantena cautelativa, ci sono situazioni diverse nei vari paesi e in molti paesi non si può proprio entrare, quindi grandissima difficoltà nel mantenere la propria clientela e di trovarne di nuova e questo ci preoccupa tantissimo perché giustamente il turismo, il bar, la ristorazione, tutti hanno in questo momento delle grandi perplessità, ma davvero il cuore dell'economia del nostro territorio sta soffrendo perché se non riusciamo a sbloccare questa situazione sarà molto difficile nei prossimi mesi. Anche perché tutti sono andati in sofferenza nel 2020, ma questo quadro che ci propone mette già un grosso freno a mano sul 2021? Assolutamente sì, perché auspicando che all'inizio dell'anno si possa davvero iniziare a distribuire il vaccino, anche a livello internazionale, i primi sei mesi comunque non permetteranno una mobilità completa. Si sta scommettendo sulle fiere all'estero in presenza per la seconda metà dell'anno, ma è sempre una scommessa su una situazione positiva. Speriamo che questo possa avvenire perché altrimenti anche il 2021 sarà un anno molto difficile, soprattutto per chi ha trainato con grande forza l'economia non soltanto della provincia di Pesurbino e della regione Marche in particolare, ma del nostro paese in generale.